Siamo in Metella e qui dietro i ragazzi stanno lavorando su due progetti in partenza, due progetti su cui Metell sta investendo parecchio, il consiglio di amministrazione ci ha dato un mandato molto importante su questi due progetti, uno si chiama Metell Data Pool e l'altro si chiama Web Service. Che cosa sono è presto detto, il Metell Data Pool è, immaginate, un enorme database dove risiedono tutti gli articoli codificati negli stili Metell. Oggi noi abbiamo circa 400, anzi qualcuno di più, oltre 400 produttori certificati con gli stili Metell. Inseriremo in questo enorme recipiente tutti gli articoli codificati di Metell e, oltre a queste informazioni, inseriremo anche tutte quelle che servono per la gestione logistica, ma anche per la gestione dell'articolo a tutto tondo. Quindi metteremo anche l'immagine, metteremo anche le famiglie statistiche di sconto, cioè tutto quello che è relazionato con il codice articolo presente sull'estilio Metell. Inoltre, su questo enorme database, verranno rese disponibili ai nostri utenti le possibilità di accedere, quindi di caricare gli aggiornamenti in tempo reale e, per chi è abilitato alla ricezione, scaricare tutti gli aggiornamenti ogni qualvolta che questi aggiornamenti vengono inseriti in questo sistema. Questo è un grande progetto, è molto importante e sarà un enorme bacino di informazioni continuamente aggiornato da parte dei produttori per il mercato della distribuzione, quindi a beneficio dell'utente finale.